Sport, protagonista all'Anfiteatro di Santa Lucia, nella serata organizzata dal Circolo PD dello Sport di Prato. Ospite dell'incontro, Mauro Berruto, ex allenatore della Nazionale Maschile di Pallavolo, con cui ha ottenuto il bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, nominato da Enrico Letta, responsabile sport della Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Tra i temi dibattuti durante la serata, che ha visto la partecipazione del sindaco Matteo Biffoni e della consulente del CGFS Francesca Vitali, la riforma dello sport è che dovrebbe essere attuata nei prossimi anni e che dovrà tenere conto dell'esperienza della pandemia che ha toccato da vicino anche questo mondo. Io credo che il dovere di tutti, ma davvero il dovere, nel senso letterale del termine, sia quello di non rimettere le lancette indietro e ripartire da dove ci eravamo lasciati. La pandemia ci ha costretto a cambiare tantissime cose, ecco valorizziamo questo momento dimostrando di aver imparato e dimostrando che occorre cambiare un paradigma nel mondo dello sport. Bisogna veramente immaginare un modello nuovo, un modello che sia anche più vicino all'importanza, alla dignità, come diceva, dello sport per il valore che lo sport rappresenta. Valore intangibile, inclusione, rispetto delle regole e quant'altro, e valore molto concreto e tangibile che è l'impatto sulla salute e sulla qualità della vita. Tra gli aspetti più discussi della riforma, quello del giusto compenso economico dovuto agli operatori sportivi e quindi il sostegno delle istituzioni al mondo dello sport. L'iniziativa che ha segnato il ritorno in presenza del circolo dello sport ha dato anche spazio al volley Prato, fresco della vittoria ai play-off e della promozione in Serie B. Ci aspettiamo anche dal partito nazionale un'attenzione maggiore che ha toccato con mano attraverso il responsabile dello sport che è venuto qui a Prato stasera ed anche vorremmo intraprendere un percorso di organizzazione anche con il partito regionale sempre per incentivare e per creare sempre più attenzione sullo sport a livello regionale nelle varie province e nei vari territori della regione.